ciao a tutti amici del canale oggi siamo qui con un nuovo video tutorial allora oggi faremo un vi farò vedere una situazione spiacevole che capita veramente grazie a dio mi è capitata quasi mai però capita c'è poche una situazione che può capitare ed è molto fastidiosa stiamo parlando di quando la corona l'alberino quindi la corona annessa l'alberino si spezza e rimane praticamente incastrata dentro e quindi è un bel problema in questo video cercherò di farvi vedere usando questo orologio che vi dico la verità e va solo cambiate la batteria però dovevo sacrificare un orologio questo è un cinesissimo c'è un orologio così che ho trovato in casa c'è loro però praticamente cercherò di spezzare la corona al punto dove dove voglio io e cercherò di replicare appunto questa problematica che può accadere quindi ragazzi utilizzerò ovviamente un orologio scarso non può non possa andare a rompere perché non è orologi rotti cioè con questo problema quindi sacrificherò questo qui poi eventualmente vabbè con questi tipi di movimenti dei coronesi ma ripeto non era in un cassetto chissà quanti anni c'era ma appunto e per farvi vedere appunto questa problematica come si può risolvere cioè togliere l'alberino dal movimento e poi sostituirlo eventualmente con uno nuovo e prima di iniziare il video ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale sostenetemi commentate mettete like insomma facciamo crescere questo canale ovviamente se i contenuti sono di vostro gradimento io cerco sempre di mettere di variare il più possibile con gli argomenti che siano tutorial che siano recensioni e quindi cercherò sempre di soddisfare più persone di arrivare più persone possibili perché per me è importantissimo che tutti comunque l'orologeria deve essere accessibile comunque a tutti quanti cioè nel senso che sia l'appassionato al purista al collezionista a solo all'amatore a solo chi ha voglia solo di indossarli come orologi da da accessorio ecco questa è la mia filosofia di orologeria e in più anche fare qualche piccolo tutorial ovviamente fai da me questi sono tutti i metodi miei poi ovviamente io di come sempre dico nei video sto a ripetere sempre quando avete problematiche che non volete risolvere voi sono i professionisti altrimenti come faccio io mi ma anche io mi rivolgo i professionisti quando c'è una cosa che va al di fuori delle mie possibilità poi l'orologeria è così ogni orologio è diverso questi qui sono molto oggi molto semplici ma sono dei orologi molto complicati che la ci vuole veramente molta esperienza però per quanto riguarda questi orologi che con questi movimenti con diciamo le problematiche la maggior parte delle problematiche questo discorso va benissimo comunque adesso cambio l'inquadratura così potremo vedere meglio la situazione allora innanzitutto cosa andrò ad utilizzare in questo in questa operazione allora l'applicasse ci sono dei diversi tipi ma io utilizzo sempre queste qui anzi poi vi farò un video su come affilarle queste renderle di nuovo utilizzabili perché un po stanno perdendo comunque utilizzerò l'applicasse ovviamente la pinzetta da precisione e i punzoni punzone vario per per togliere la corona allora innanzitutto cosa dobbiamo prima simulare quindi dovrò rompere della non si mette a fuoco ecco qui dovrò aprire prima il fondello potete dare un movimento basico niente di che molto 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 basico adesso cercherò di toglierò la corona prima e la spezzerò più o meno in questo punto qui sperando che sia ovviamente prima devo toglierla mi aiuterò con questa ecco qua adesso cercherò di simulare il più possibile appunto la problematica che si vediamo se riesco a metterlo a fuoco ecco qui cercherò di spezzarla più o meno qui e poi per vedere appunto come dopo tirarla fuori allora prenderò qui mi servirà una pinza una piccola tronchesina cioè non è nemmeno una tronchesina io l'ho voluto fare non ho voluto preparare questa operazione prima appunto per farla vedere sempre se riesco a mettere a fuoco perché comunque non è ecco qui vediamo sembra ecco ho sacrificato la l'alberino del movimento adesso ve lo farò vedere a metterlo tutto in una mano ecco qui ho spezzata più o meno nel posto dove voleva adesso la inserirò e vi farò vedere più o meno come si può togliere praticamente ovviamente ho tolto il movimento ok l'ho inserita adesso sto costruendo praticamente la situazione tipo per essere più chiaro possibile quindi più o meno ci troveremo una situazione del genere adesso metterò proprio tutto lo chiuderò perché voglio essere che la situazione sia chiarissima ok diciamo che la situazione tipo questa qui quindi noi ci ritroviamo una un orologio praticamente che ci è successo c'è spezzata questa e se ne è venuta via e quindi non sappiamo ovviamente come come si può risolvere come si bisogna sostituirla come bisogna togliere il pezzo che è rimasto dentro il movimento allora io faccio così una situazione molto semplice allora apro ovviamente di un affondello ovviamente questa la sposto e cercherò un po di zoomare tolgo il ferma movimenti è saltato via va bene ecco qui la situazione che ci troviamo l'alberino incastrato c'è la parte rotta che è rimasta qui allora noi ci aiutiamo ovviamente con una pinza e con il punzone allora con uno teniamo fermo qua e con la pinzetta ecco qua si tira fuori si rimette al posto e basta è finita così non non è niente di così complicato poi ovviamente ripeto io ho fatto vedere con questo tipo di movimento ma bene o male c'è chi c'è un po di meno spazio e chi è più spazio poi ovviamente bisogna trovare il punto di dello sblocco di questo movimento si trova qui ma magari quelli di altri si troveranno in altre parti ovviamente tutto sta nel premere e poi tenere con la pinza e tirare via il pezzo che è rimasto dentro incastrato tutto qua non che non è niente di complica magari per chi non ha cia la mano però ripeto è una situazione che a me non è mai capitata però può capitare quindi una volta che il pezzo rimane incastrato qui dentro si preme si sfila e poi dopo si sostituisce eventualmente come il pezzo che serve e a riprova per farvi vedere di nuovo con precisione quello che ho fatto questa è la situazione che noi abbiamo l'alberino rimane dentro perché la una qui ecco fatto mi è caduta una cosa scusate quando faccio i video mi cade sempre qualcosa comunque questa è la situazione tipo rimane l'alberino che ci rimane incastrato più o meno succede questa cosa in genere si spezza io adesso lo spezzata dal centro però in genere secondo me si spezza più da da qui praticamente perché con magari un urto oddio veramente no perché se uno prende un urto prende un urto la spezza da qui quindi si spezza e poi questo a un certo punto ci troviamo nella situazione che questo cade così quindi ci rimane questa situazione qua allora noi cosa facciamo apriamo tutto come ho detto prima con due mani ci aiutiamo una spinge lo sblocco dell'alberino che lo libera e con l'altro andiamo a tirare ecco qua niente la cosa che invece di usare la mano siamo una pinzettina e niente penso che il video possa concludersi qui alla fine era un'operazione che sembra che anche perché in qualche commento mi è stato richiesto quindi ho detto vabbè perché non faccio un video niente ragazzi il video si conclude qui spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi